...cambinario 5, attenzione, a mancanarsi dalla via adatta, ferma il rinco a la scuola. Il trevo regionale, 5, 9, 8, in pericolazione, e l'ora 14, 15, mi chiede ad Alessandro e a me, a mancanare, per chi invece è camminare 5, attenzione, a mancanarsi dalla via adatta. I deve aver vacato a leire che aveta, c'è una via adatta, un po Grazie a tutti.